Ciao, io sono Emanuele. Ciao, io sono Jacopo. E io sono Ivanshu. Vorremmo oggi presentarvi un video filmato piccolo che è sull'inquinamento che noi esseri umani non rispettiamo abbastanza. Buttiamo ogni giorno un sacco di mondizie che si potrebbero riutilizzare. Tipo qua, oggi abbiamo trovato della carta che si potrebbe riciclare. In questo parco l'unica cosa che c'è sono le mondizie. Il verde non ha neanche senso qua. Da quante mondizie? Perfino è nuovo per i gatti c'è. E il perfetto per il comune, per fortuna, ha messo dei... Dei bidoni che servono per mettere l'umido. Così non riempiamo le strade piene di mondizie per l'umido, per secco, per altre robe. Ci vorrebbe anche qualcuno che vorrebbe... Hai visto queste piante secche? Mamma... Eh, bisognerebbe aiutare un po' l'ambiente a svilupparsi. Cioè dargli acqua... Cosa si fa? Guarda, quanto si fa che c'è qua? Bisognerebbe dare l'acqua, un po'. Ma voi credete che noi lo facciamo? Ma fammi vedere se non lo facciamo. Beh... Noi... Anche noi però... Certe volte... Certe volte... Anche noi... Se si accorgersene... Eh... Per sbaglio, non è che succeda apposta, però... Alcune persone lo fanno proprio apposta per inquinare l'ambiente, alcune cercano di riciclare. Guardate quante sigarette, tipo, che ci sono. Come qua, che si vede... Eh... Ecco qui! Il fumo uccide. Infatti, secondo me, le sigarette andrebbero buttate via, perché... L'inquinamento fa male. Beh... Oggi noi abbiamo finito.